Le politiche sociali sono state al centro della campagna elettorale del sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, che fin dall'inizio ha sostenuto i concetti di giustizia sociale e di benessere, un compito arduo in una città dove tante famiglie non riescono ad arrivare a fine mese e sono sempre più numerosi cittadini che chiedono aiuto al comune e alle associazioni di volontariato. A gestire la delega e le attività sociali sarà una donna, il vice sindaco Maria Chimisso. Per fare bene il proprio lavoro bisogna conoscere le cose. Io sto cominciando adesso e quindi il mio impegno in questo momento è entrare fino in fondo nelle problematiche della gente, delle famiglie, delle necessità. Problematiche acuite ovviamente dal periodo di crisi economica e sociale che stiamo vivendo. Famiglie in emergenza economica ma anche abitativa. È un passaggio molto delicato, le famiglie sono in una condizione di disagio, aumentano il numero degli sfratti. Bene, lavoreremo molto su questo per soddisfare le esigenze di tutti, nei limiti ovviamente concessi dagli alloggi disponibili. La Chimisso, preside dell'Istituto Alberghiero, si è messa al lavoro anche per una ricognizione dei servizi scolastici. Realizziamo le richieste delle famiglie in merito alla possibilità di portare i loro figli a frequentare l'iasili nido e le scuole dell'infanzia comunali. C'è questa disponibilità? C'è la disponibilità e c'è anche richiesta. Ci fa piacere perché vuol dire c'è fiducia del servizio istruzione fornito dal Comune. L'esponente della Giunta punta anche su una rete tra le numerose associazioni presenti in città. Chiamare a un tavolo di concertazione, di incontro più esattamente tutte le associazioni e metterle in rete. Sia perché così si risparmiano energie e si spendono meglio le energie che abbiamo a disposizione, sia perché l'offerta fondamentale che il terzo settore fa alla comunità e alla società sia in qualche modo innalzata e migliorata, raffinata per intenderci.